... Uno e due Un po' più veloce Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Perfetto Adesso Maria Paolo Lo facciamo con la batteria E poi ci puoi vedere gli altri passi E perché no? Maestro 5, 6, 7, 8 Uno, due Tre, quattro Cinque, sei Sette, otto Esatto Quindi da questo punto in avanti Voi continuate In altri punti Sette Sette Sette